In Basilicata invece, sempre per lo scandalo dei rimborsi taroccati, è caduta l'intera giunta del centro-sinistra guidata da Vito De Filippo, praticamente l'hanno inquisito in blocco e tra gli assessori indagati e dimissionari c'è un certo Marcello Pittella, che non è omonimo di Gianni, candidato alle primarie del PD, è il fratello. Uno dice l'hanno messo da parte? No, l'hanno candidato governatore per il centro-sinistra alle prossime regionali della Lucania, gli hanno chiesto se si è imbarazzato, lui ha detto no, io sono un garantista su se stesso naturalmente e ha aggiunto poche centinaia di Euro, non possono sporcare una carriera, ricorda un po' la madre di quella del Viscuillo dei Parioli che ai giudici ha detto non pensavo che mia figlia si prostituisse, credevo spacciasse.